Con un'ordinanza la Commissione europea ha deciso che l'Italia debba istituire una zona infetta nelle aree di Roma dove sono stati riscontrati casi di cinghiali affetti da peste suina africana. La malattia virale colpisce suini e cinghiali, è altamente contagiosa e spesso letale per gli animali. Non è invece trasmissibile agli esseri umani, ma le conseguenze economiche possono essere pesanti. Da gennaio il virus è stato confermato inoltre un centinaio di cinghiali tra Piemonte e Liguria. A inizio maggio il primo caso nella zona nord di Roma. Il sottosegretario alla salute Andrea Costa ha annunciato che martedì l'ordinanza del commissario darà seguito alle richieste europee e definirà le attività possibili nella zona rossa oltre a un piano di eradicamento selettivo dei cinghiali che, ha sottolineato Costa, in alcune aree sono presenti in misura 5 volte maggiore rispetto a quanto sarebbe sostenibile dall'ecosistema.